Blecca e Susan, si chiama così questo fiore che è simpatico perché è un fiore che mette calma, rallenta un pochino i ritmi di quelle persone che sono iperfrenetiche, ipercinetiche, quelle che per loro magari dormire è una perdita di tempo, fanno mille cose e guarda caso tutte mille cose e poi alla fine della giornata le hanno anche concluse anche brillantemente. Il problema è che la mente corre veloce però poi il corpo fa un po' faticano a seguirlo, quindi sono poi le persone che sicuramente essendo iperattive mangiano male perché non masticano neanche oppure dormono male perché appunto intanto stanno sempre con il cervello molto attivo e poi comunque si concedono poche ore di sonno. E quindi tutto questo alla lunga stressa ma soprattutto insomma logora, quindi il Blecca e Susan ti aiuta un attimino a calmare i ritmi frenetici e quindi è utile in questi tempi.